oh adesso ti faccio vedere quello dove ha buttato quei due cani dentro il fiume erano e c'è scritto che vieni però cammina che ci danno fino a tre anni di galera è stata la moglie a dirci che doveva mettere non è lo stesso tutti in galera sono lo stesso sto cazzo a tutti i tre anni di galera ci devono dare è lo stesso questo qua dove l'hanno trovato qua vieni 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 a guardare hai visto qua dove l'hanno trovato laggiù si vede che quello è venuto di sera l'ha buttato i denti con un pezzo di ferro no anche ha 36 anni e lavora come come uno che fa fergibu come uno schlosser quelli che fanno i ferri adesso però che arrangia ah quello di sicuro pure il posto di lavoro l'ha perso un cane aveva sette anni come c'è scritto un cane aveva sette anni e l'altro quattro che davvero incalera e non uscire più guarda questi qua fatti una volta il conto fatti conto quanti anni c'ho questi due di 2008 fino adesso guarda la minchia non ti accorgi ci diri il collo ci diri uno lo butta nell'acqua e l'altro ci diri il collo ma fanculo